Sì, sono Marco, mamma. Sono io. Ma dove arrivi? Mi senti? Sì, c'è qui quel ragazzo che vuole l'oro. Se l'ho detto, dagli un secchiettino che me lo porta qua in ufficio. Sì, ce l'ho già qui in mano. Allora ce lo do lui? Sì, dagliela a lui che me lo porta qua. No. Adesso suonerà da lei che arriva il mio collega, va bene? Sì. Si chiama Andrea Rossi. Sì, l'aiutiamo. L'aiutiamo, vada tranquilla. Però lei deve consegnare perché altrimenti non possiamo fare la puntura. Sta troppo male. A me, signora, ha messo tutto l'oro dentro che aveva? No, è un problema. Sto subito, no? No, ha messo tutto l'oro dentro nel secchietto? Sì. Aspetti un minuto al telefono. Eh, aspetta che guardo. Il navigatore mi dà nove minuti. Suoni, ti dà sacchietto e scappa via subito perché lui è uscito. Ok, chi è il figlio? Lui, il vecchio, è uscito perché il c***o non lo voleva dare. La vecchia non riesce a camminare. Suoni, lei abita al secondo piano, ti dà la roba e vai via subito. Capito? 400 grammi. Grazie mille. Grazie a tutti